. US Open 2017, Qualificazioni, Splende Berrettini, Brescia Show, Avanza la Pauline. . Alterne fortune per i colori italiani in sede di qualificazione. Per tutti medesimo obiettivo, conseguire un posto nel tabellone principale all'US Open. L'impresa di giornata è di Georgia Brescia. L'Azzurra supera una giocatrice di spessore come la Tig, tennista consolidata nel circuito Tà, in tre set. . 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 Berrettini cancella a Revalo, 62-76. Solido il tennista italiano, specie nel prolungamento del secondo, quando chiude la porta ad ogni tentativo di rimonta del rivale di giornata. Luca Vanni, dopo uno scatto positivo, 64, si arrende al canadese Dancevic, 64-64, qualche rammarico per Caruso, superato in due da Evan King. La sfida si risolve nel primo parziale, Caruso non concretizza alcune importanti opportunità, 0-4 Il conto delle palle Brake, perde il tee Brake e non ha la forza per contenere King nel secondo set. 76-2-62. Il francese Robert controlla Giustino, 64-62, grazie ad un'ottima performance al servizio. Consegue l'89 dei punti con la prima e non perde mai la battuta. Infine, Napolitano capitola con lo sloveno Rola, 63-62. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS